Ciao a tutti e a tutte, nello spazio emergente di oggi vi parlo di La morte nascosta, un cold case italiano di Stefano Marzotto, autopubblicato. In questo libro viene ritrovato dopo molti anni un cadavere all'interno di una tomba che non è la sua e ad indagare ci sarà il maresciallo Rizzi che non solo dovrà scoprire l'identità di questo cadavere ma anche l'assassino. Per quanto riguarda la parte oggettiva il problema principale di questo libro è la di eufonica, usata anche quando non si deve usarla e poi ci sono comunque alcuni refusi, alcuni errorini per cui consiglierei all'autore una revisione da parte di un professionista. Sulla storia in generale devo dire che all'inizio il libro non mi aveva preso proprio per niente, sicuramente perché si doveva ancora entrare nel vivo della vicenda ma anche soprattutto per alcuni personaggi, in particolare per il maresciallo Rizzi ma soprattutto per il brigadiere De Rosa che non lo so sembravano troppo caricaturali, sapete quei personaggi usciti dalle fiction italiane di polizieschi, fiction di serie B tra l'altro in cui gli stereotipi e i pregiudizi sui carabinieri sono esagerati. Ecco. E io trovo che non ci sia assolutamente nulla di male nel portare un po' di ironia, un po' di umorismo o di sarcasmo all'interno di un libro giallo non è quello il problema. Quello che non mi è piaciuto è stata proprio l'esagerazione o perlomeno io ho percepito tutto ciò come un'esagerazione e queste cose molto spesso mi fanno sorcere il naso. Poi nel momento in cui la storia prende piede sicuramente sono stata incuriosita soprattutto nello scoprire chi fosse l'assassino. È comunque poi un libro che si legge bene, si legge molto molto velocemente. Per quanto riguarda l'assassino c'è un punto a favore del libro, nel senso che io avevo il mio sospetto però mi sembrava impossibile che potesse essere lui e ok ci avevo visto giusto quindi non c'è stata una grandissima sorpresa però nello stesso tempo ero comunque sorpresa perché non pensavo fosse lui anche se lo sospettavo e quindi sono stata comunque appunto sorpresa sia dallo scoprire effettivamente chi fosse l'assassino e anche per il movente. Per quanto riguarda lo stile diciamo che è comunque molto semplice, diretto, ci sono molti dialoghi, che alleggeriscono ulteriormente la lettura, che facilitano tutto questo al lettore facendolo procedere in modo molto spedito nella lettura del libro quindi sicuramente può essere un libro che vi regala un paio d'ore di semplice intrattenimento. Bene ragazzi questa era la mia breve recensione della morte nascosta a un cold case italiano di Stefano Marzotto vi lascio il libro linkato qui sotto ad Amazon se volete leggervi la trama oppure procederà all'acquisto e qua sotto vi ricordo che trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di Youtube quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Godrizza, il canale Telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale e a questo punto direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video, ciao! Grazie a tutti!